Perché l'Eucopas non ci va bene, perché non va bene niente, perché l'area C, questa giunta comunale, è una giunta che non funziona, non funziona e non funziona e non funzionerà. Lei è una residente del centro? No, no. Davanti al Palazzo Marino, mentre l'assessore Marans raccontava i dati della prima giornata di area C, si sono riuniti alcuni residenti del centro e non per firmare contro l'area C. Ho firmato perché non sono d'accordo totalmente, questo è un esbaglio totale, è una vergogna. Noi dobbiamo batterci, se no qua ci tolgono tutto dalle tasche queste qua. E' sempre povera gente che paga realmente le tasse. Cosa serve e iniqua questa tassa? L'automobilista non si può muovere più, Pisapia si diverte a tartassare pure lui, benzina, bollo auto. Con lo auto non c'entra Pisapia però. Ma l'automobilista cosa deve fare per accedere a casa? Io abito da tanti anni a Porta Romana, ho fatto dei sacrifici, ho comprato un piccolo appartamento. Allora il signor Berlusconi ci ha levato per lì ci, questi signori che sono venuti adesso a comandare ci mettono il triplo, per me non è vero giusto. 40 ingressi gratuiti per uno che entra e esce in un anno sono pochi, per chi lo fa per lavoro ed è costretto ad usare la macchina i 40 ingressi sono veramente pochi. Lei è una residente del centro? Non sono residente del centro, io uso pochissimo le macchine in generale. Però è il contrario? Ti iniquo questo cambio di denominazione, tanto per prendere più soldi. Anche per la questione dell'inquinamento, per meno traffico in centro? Ma sono tutte storie, perché dopo chi vive in periferia si becca tutto il traffico che non passa in centro.